Il colpo di Stato non c'è mai stato un colpo di Stato in Venezuela. Non c'è mai stato nemmeno un tentativo di colpo di Stato. C'è stato uno scontento assolutamente occasionale dei electori che avevano un risultato negativo. C'è stato uno scontento assolutamente occasionale degli elettori che hanno avuto un risultato negativo. Ma le istituzioni sono dalla parte del vincitore delle elezioni. E il popolo è dalla parte del vincitore delle elezioni. E l'alleanza civico-militare respalda i risultati del candidato vincitore. Nell'opposizione venezolana ci sono due settori perfettamente individuabili. Un piccolo settore che vuole esercitare la violenza e prendere il potere con la violenza. E un altro settore più grande rispetto a quest'ultimo che spera di prendere il potere attraverso un'elezione. Nostro progetto è un progetto alternativo, pacifico, democratico, elettorale e senza violenza. Il nostro progetto è un progetto alternativo, pacifico, democratico, elettorale e senza violenza. E il piccolo settore che ejerce la violenza contro questo progetto non tiene né tendrà èxito. E il piccolo settore che usa la violenza contro il nostro progetto non ha né avrà successo. E il piccolo settore che usa la violenza contro il nostro progetto non ha né avrà successo.